Sono Elisabetta Falchi, rappresentante dell'azienda agricola Falchi, un'azienda storica che esiste dal 1792 qui ad Oristano. Noi siamo produttori prevalentemente di riso, oltre che però anche di altre colture tipo grano. Ultimamente abbiamo sperimentato la lavanda per dare un po' di colore alla campagna quando è verde dei campi di riso, è bellissima. La nostra azienda è un'azienda che lavora prevalentemente con il riso da seme e siamo soci di una cooperativa sardo-piemontese-sementi che esiste dal 1978 che era stata costituita da mio padre insieme ad altri soci sia sardi, amici sardi e anche piemontesi. È una cooperativa che era nata con l'intento di fare qualcosa che allora era poco conosciuto, cioè chiudere la filiera, quindi vendere direttamente il riso da seme che si produceva molto rinomato della provincia di Oristano, venderlo direttamente agli agricoltori che poi sono gli acquirenti finali e quindi da allora siamo soci di questa cooperativa che dal 1989 ha avviato un centro di ricerca di miglioramento genetico del riso e quindi abbiamo costituito nel frattempo tante varietà perché era necessario ammodernare il parco varietale del riso. Tra le varietà che sono state costituite anche alcune particolarmente famose come il riso venere. Il riso venere è un nostro brevetto e inizialmente era stato strano trovare, era praticamente derivato dall'incrocio di una varietà cinese che era stata portata dalla Cina dal nostro ricercatore, era una genetista cinese che era poi stato incrociato con una varietà italiana per renderla adatta ai nostri clini. Dal riso venere poi sono state ottenute altre varietà colorate come l'Hermes e l'Artemide. Noi adesso commercializziamo prevalentemente queste varietà con un logo nostro familiare. È un prodotto che abbiamo deciso di destinare a un mercato di nicchia, quindi si trova prevalentemente nelle enoteche e nei piccoli mercati, non nella GDO. Vendiamo molto online, siamo conosciuti dall'estero e ci chiamano spesso dall'estero perché piace molto l'idea di conoscere un territorio, assaporare i sapori, le qualità, le specialità di quel territorio e conoscere la storia soprattutto sia del territorio sia della famiglia che produce. Noi siamo tutte donne, è un'azienda al femminile, quindi siamo orgogliose di quanto ho fatto in questi anni e oggi orgogliose di essere a questa manifestazione. Grazie, allora in bocca al lupo per questa sera. Grazie.